raccomando ricordatevi che noi siamo in live la domenica volete? un attimo solo per farvela vedere guardate un po' bam bam ram mamma mia e ragazzi ricordatevi che questa l'ha fatta la rapitrice Anna è gelosa ma in realtà è fighissima questo va detto cioè raga va ammesso che è fighissima il che probabilmente sarà un pensiero poco accettato ma per me è una pacchianata però ovviamente questa corona non spetta a me in questo momento perché io non sono più del nuovo sovrano che verrà la indosserà il nuovo è fighissima cioè effettivamente è fighissima dai ci ha rotto le balle tanto però una cosa buona l'ha fatta sarà la rapitrice chiamiamo uno adulto quindi Anna cosa devi fare tu adesso?